ciao a tutti oggi prepareremo la crema al mascarpone il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa ingredienti sono mascarpone freddo di frigo zucchero semolato tuorli e albumi diamo il via alla ricetta siamo all'interno del boccale che deve essere perfettamente pulito e asciutto e privo di residui di cibo la farfalla versiamo gli albumi preferibile che siano a temperatura ambiente e li facciamo montare per quattro minuti a velocità 3 e mezzo gli albumi sono perfettamente montati mettiamoli da parte in una ciotola dopo aver lavato e asciugato bene il boccale versiamo lo zucchero semolato e lo facciamo polverizzare 10 secondi a velocità 10 finiamo sul fondo del boccale posizioniamo la farfalla versiamo i tuorli chiudiamo con il coperchio e facciamo montare per 7 minuti a velocità 3 senza il misurino i tuorli sono montati adesso rimuoviamo la farfalla e lasciamo raffreddare i tuorli montati all'interno del boccale per almeno 5 minuti trascorsi i 5 minuti chiudiamo con il coperchio senza il misurino impostiamo il tempo a 4 minuti azioneremo il bimbi a velocità 3 e man mano andremo a inserire il mascarpone dal foro del coperchio il nostro composto è pronto trasferiamolo in una ciotola capiente adesso riprendiamo gli albumi e li incorporiamo al nostro composto la crema al mascarpone è pronta andiamola a trasferire in una ciotolina la crema al mascarpone è pronta andiamola a mettere in frigorifero crema al mascarpone può essere utilizzata per fare il tiramisù guarnire torte farcire panettoni o pandori o mangiate al cucchiaio grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti